Ciao siamo alle case e questo è un box di sgabello Clif di Eichholz, una marca olandese di arrodamento di alta gamma. E questo è il set di due sgabelli colore nude velbete, il veluto colore nude. Queste sono le parti sotto e queste le parti sopra. Prendo ovidere. Questa è la parte di sedia. Ok. E ci servirà solo a montare la parte bassa. E questo è il prodotto finito. È lo sgabello per cucina o bar Clif. Viene in coppia, quindi ben due sgabelli. Abbiamo scelto noi per questo arrodamento, questo vuol colore cifria, potete vedere il campione magari un po' più da vicino. E infine abbiamo scelto le gambe d'acciaio con una penitura nera e due piedini antigraffio in ottone. Questo quindi è lo sgabello finito. Viene già con le viti e un piccolo aggeggio per avvitarle se non hai il cacciavite a disposizione. E questo è il risultato finito. Grazie! Un chabello Pit presente in due altezze diverse fatto di questo meraviglioso veluto. Presenti sono anche le viti per avvitarle, comprese già di avvitatore. Grazie a tutti Grazie a tutti